Il direttore sportivo Sandro Federico nella conferenza stampa di presentazione alla piazza ha fugato ogni dubbio. Giacomo Casoli sarà l'uomo della ripartenza e della continuità tra passato e futuro. Il capitano bianco-azzurro, 34 anni da compiere il 15 settembre, altri 12 mesi di legame contrattuale con la Fidelisandria, sarà al centro del progetto tecnico anche nella prossima stagione. Nonostante le variazioni sullo spartito tra allenatore e DS e un'annata in fase di start-up, Casoli ha convinto Federico e Mirko Cudini con i fatti, quelli di chi aveva segnato il primo gol in campionato della scorsa stagione, 1-1 al Degli Olivi contro la Juve Stabia ed era il risultato il giocatore più impiegato nel percorso concluso con la salvezza e i play-out, mettendosi a disposizione sempre con umiltà e dando l'esempio con i fatti, silenzioso fuori dal campo, leader dentro. Ecco perché nell'Andria che rinasce nel segno della linea verde, l'esperienza di Casoli resterà centrale. A parlare per il giocatore originario di Gubbio, oltre 400 presenze tra i pro, spalmate tra Matera, Catanzaro, Spezia, Como, appunto Gubbio, Cremonese, Empoli e Fidelisandria, sono i numeri della scorsa stagione. Quasi 3.000 i minuti sul campo, cambiando spesso e volentieri collocazione tattica, ma garantendo carattere, affidabilità, quantità e qualità. Tra campionato Coppa Italia e play-out sono 35 le presenze totalizzate con due gol e tre assist. Diverse sono state anche le versioni tattiche ammirate ad Andrea. Con Panarelli e Ginestra si è mosso per lo più da esterno destro da mezzala nel 3-5-2. Con la coppia di Leo Di Bari e il passaggio al 4-2-3-1 si è visto il volto multiforme di Casoli, mediano davanti alla difesa, esterno guastatore tra i trequartisti. Diversi modi di intendere il calcio, un solo nome, con fascia da capitano al braccio. La domanda ora è un'altra. Dove sarà impiegato nel 4-3-3 di Cudini? Le risposte carriera alla mano sono tre. Da mezza alla destra, quella che sembrerebbe la sua casella più congeniale o all'occorrenza, da esterno alto su entrambe le fasce o addirittura da terzino destro. La qualità non si discute, soprattutto se abbinata alla capacità di mettersi in discussione ogni domenica sul campo, doti fondamentali da esibire e incarnare in un campionato complesso come la Serie C che attende la Fidelis.